Sono Mastro 5 Donatella, ho 52 anni. Sono sì all'incirca cinque anni che sono iniziati i miei problemi e stavo alla ricerca di un dottore dove andare per sistemare la bocca. La causa penso inizio di paradontite, i denti li tenevo tutti però si muovevano, solo quattro davanti li potevo mantenere e allora ho deciso con i dottori di toglierli tutti perché gli altri non erano buoni. Sono arrivata in clinica, una bella esperienza perché noi dall'Italia non siamo quasi usciti mai. Allora partendo per la Moldavia andiamo, ho parlato con i dottori molto cordiali, molto giovani e niente abbiamo fatto tutta la riabilitazione di tutta la bocca. Mi sento benissima rinata e sono i denti miei, mi trovo già a mio agio, li abbiamo provati, mangiando, parlando si parla benissimo e contentissima. Siamo venuti qua io e mio marito, mio marito da quando ha fatto la riabilitazione totale è cambiato moltissimo. Già come si presenta vicino alle altre persone nella vita quotidiana perché comunque si rinasce pure in coppia perché avendo problemi comunque è tutta un'altra cosa. Mio marito quando soffriva era sempre nervoso, non dormiva la notte, sempre agitato per vari disturbi. Allora i nostri figli ci hanno visti, abbiamo mandato le foto e sono contentissimi e sono contenti per noi perché comunque uno ha fatto tanti sacrifici e alla fine la famiglia è l'unica cosa che ti resta per stare insieme. Sorridere è la cosa più bella che si possa avere. Per la felicità un bel sorriso, dei bei denti e la persona cambia tanto si rinasce. Le persone che abbiamo incontrato, dottori, infermiere, aiutanti, tutti cordiali, tutti col sorriso, bravissimi. Nel laboratorio sì, abbiamo visto come lavorano, come programmano i nostri denti, tutti i ragazzi giovani che vogliono imparare, che sono già esperti. Bellissimo, una bellissima esperienza. Nel laboratorio abbiamo visto attrezzature all'avanguardia, cose che in Italia non ci sono. Non quei grandissimi macchinari, chissà uno che cosa si aspetta, però c'erano. Io dico come siamo partiti noi nel nulla, diciamo. Auguro e spero che altre persone come noi, che hanno avuto problemi come i nostri, di mettersi nelle mani del dottor Palmas e dell'equip, di tutti quelli che sono dietro al dottore. Le nostre aspettative sono il top. L'ho aggiunta al massimo e lo rifarei altre mille volte. Sono contentissima. Insi dispiace parts per il buomo di servo. Non c'è la lista, sai la lista. E' n�ulare mai mai, non c'è la lettera che hanno cambiato per l'attivare al Grazie a tutti.